Proseguono i lavori per il completamento dello stadio Pietro Reitano di Catona. Il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, insieme ad una delegazione dell'amministrazione comunale, si è recato sul posto per fare un sopralluogo sull'impianto sportivo. Siamo nella fase di posa in opera del manto erboso, del glorioso Reitano di Catona. Queste sono tutte le attività propedeutiche alla posa in opera del tappetino in erba sintetica di ultima generazione. Noi li seguiamo con grande attenzione perché questa zona della città riguadagna, riconquista un impianto sportivo che le era stato sottratto per molto tempo. Oggi siamo qui a Catona dove i lavori stanno procedendo in maniera veloce. Mi auguro che da qui a qualche mese questa struttura possa ritornare nuovamente nelle disponibilità delle società sportive. Una struttura moderna, accogliente, sicura, che dà l'opportunità ai nostri ragazzi a poter fare sport. Un campo di calcio che ha visto negli anni passati la Catonese solcare i campi di eccellenza. È un campo che ha avuto dei periodi di abbandono, però ora i lavori stanno proseguendo, stanno andando avanti grazie ai fondi RACDU e che presto verrà consegnato alla cittadinanza reggina e anche catonese.